Signore e signori, buonasera e benvenuti all'undicesimo osaggio musicale della classe di pianoforte della professoressa Elena Shumanova. Grazie per essere arrivato, mio viaggiatore inaspettato, tra tante case ha scelto questa, oggi è un bel giorno e facciamo la festa. Ti puoi fermare qui da me, divideremo quel che c'è e quando è tempo di partire, se questo posto ti è piaciuto, sarai sempre il benvenuto! Il programma di questa sera prevede brani di musica leggera, colore e sonore dei più grandi compositori moderni. Per l'occasione si esibiranno tra noi i vincitori dei due concorsi internazionali tenutesi a Roma il 17 maggio e il 3-4 giugno 2015. Signori e signori, buon ascolto e buon divertimento! Cominciamo con la più piccola di noi, di soli 5 anni, Ginevra Marocone! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.